Migliorare la qualità della vita e delle infrastrutture cittadine sono alcuni degli obiettivi del bando della Regione Marche dedicato alla pianificazione urbanistica generale. Manocchi anche Fanno riceverà un finanziamento, di quale importo? Sì, abbiamo partecipato a questo bando regionale, gli uffici sono stati molto bravi perché chiaramente si partecipa a questo bando oltre a attenzionare la partecipazione al bando stesso è necessario con un click, così in termine tecnico, fare una procedura innanzitutto per registrarsi e quindi chiaramente in maniera puntuale e attenta e poi partecipare in via di immediatezza e avere il carattere della speditezza e la temporalità per potervi partecipare. Noi siamo arrivati primi per quanto riguarda la fascia che riguarda il Comune di Fano per fasce chiaramente sono riferibili al numero di abitanti della città e quindi abbiamo partecipato per l'importo di 150.000 euro e con una compartecipazione necessaria da parte del Comune perché questo dispone il bando quindi 120.000 euro saranno finanziati dalla Regione mentre 30.000 euro saranno finanziati dall'amministrazione comunale. E per che cosa verranno destinate queste risorse? Sì, questo ci consentirà di avere delle risorse disponibili per attuare il piano urbanistico generale che dal 1 gennaio 2024, alla luce della legge regionale che appunto dispone questo nuovo strumento di pianificazione urbanistica, abbiamo 4 anni di tempo appunto per adottare questo nuovo strumento. Per quello che riguarda diciamo così un po' l'elencazione di quelle che sono le nostre esigenze riguardano il coordinamento del gruppo di progettazione per la redazione del piano urbanistico generale e poi praticamente per svolgere tutta una sorta di studi specialistici che riguardano le analisi socio-economiche per quanto riguarda studi geologici, idraulici, storico-culturali, botanico-vegetazionali poter reperire risorse umane, in questo caso collaboratori IGIS, AutoCAD e software specifici necessari appunto per la redazione di questo piano che andrà a sostituire sostanzialmente il piano regolatore vigente che ha delle finalità ben precise, quindi di sviluppo del territorio in maniera molto puntuale da un punto di vista del rispetto ambientale, dal punto di vista del rispetto dello sfruttamento del territorio e quindi diciamo un studio strategico delle aree fortemente antropizzate. Per il PRG la provincia vi ha chiesto diverse integrazioni, è così? Tantissime, 13 le pagine di richiesta di integrazione e di chiarimenti, quindi veramente un lavoro in mane da un punto di vista molto pratico, si tratta veramente di svariati mesi di lavoro che vanno dalle relazioni socio-ambientali alle relazioni socio-economiche e quindi veramente senza entrare troppo nei tecnicismi una richiesta molto importante da un punto di vista politico credo che sia rappresenti davvero una bocciatura di questo piano regolatore e il lavoro che gli uffici dovranno mettere in campo in questo momento è un lavoro davvero importante chiaramente stiamo facendo una serie di valutazioni, cercare di comprendere qual è la strada migliore da percorrere al di là delle integrazioni e chiaramente poi che comporteranno le scelte che andremo a fare.